Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Garcini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Guidare con prudenza per la nebbia banchi in A1 tra Pian del Voglio e Aglio, tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Val di Chiana e Fabro. Sul raccordo Bettolle-Perugia fino al 20 novembre è chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita per chi viaggia verso Perugia. Per la viabilità cittadina a Firenze fino al 20 novembre restringimento di carreggiata con senso unico alternato in via Cicognini e in via Devoto. Previsti in via Migliorini un divieto di transito e restringimenti di carreggiata con senso unico alternato. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!